A conclusione di questa stagione 2023 possiamo senza dubbio dire che è stata una stagione di grande successo per questo spettacolo che è in assoluto il più visto nella regione Sicilia. Questo spettacolo, grazie alla sinergia con i produttori, con le pubbliche amministrazioni e ovviamente all'impegno della nostra azienda, è veramente un fiore all'occhiello di tutta la produzione teatrale della Sicilia. Il 2024 mi auguro che posso offrire ulteriori migliorie, ulteriori proposte per questi spettacoli, coronando così quello che è un sogno di mio padre che sperava e si augurava di rendere la Valle dell'Alcantra un gioiello all'interno della regione siciliana.